Il titolo è provvisorio però loro vogliono mantenere un titolo italiano e parla praticamente di una bimba che viene adottata da una ricca famiglia italiana, viene adottata dal Medio Oriente, quindi da una zona di conflitto, viene adottata e cresce in Italia, cresce in Italia in questa famiglia italiana, però in questa famiglia italiana come in tante famiglie italiane la colfe filippina e anche il papà adottivo della protagonista di questa ragazza è cresciuto con una colfe filippina e anche lui pur essendo italiano e nel nostro caso bolognese parla anche filippino, parla anche il tagalog. Quindi le prime puntate, la prima settimana, le location, la storia si sviluppa in Italia e poi questa ragazza vuole ritrovare le sue origini e quindi poi andrà in Filippine. Il mio ruolo è il padre di questa ragazza da quando ha nove mesi fino a quando compie 18 anni. La regista non voleva girare solamente nelle città più famose italiane, più famose dal punto di vista turistico come Venezia, Firenze e Roma, come molti fanno, e quindi cercava luoghi italiani belli, suggestivi ma meno battuti dal turismo. Quindi quando mi hanno chiesto se volevo fare parte del cast e poi successivamente mi hanno chiesto anche un aiuto in produzione per cercare location adatte, io ho detto perché non portarle a Bologna? Io sono nato qua, ho studiato qua e me ne sono andato solo tre anni fa. Considerate che alle 5 della mattina ci sono già fan della protagonista davanti all'hotel Trevecchi in Via Dipendenza, alle 5 della mattina iniziano ad aspettarli. Ieri sera quando siamo tornati da Firenze, che abbiamo avuto una giornata di ripresa a Firenze, che erano le 11, erano ancora là, c'erano ancora i fans che aspettavano la protagonista che tornasse da Firenze. E quando abbiamo girato l'altro ieri in Piazza Maggiore, da due o tre filippini che c'erano, sono diventati 100. Dal punto di vista produttivo, in Filippine si girano più film indipendenti che è film in stream, quindi c'è un sottobosco di registi e di filmmaker indipendenti molto sostanzioso e grazie a questo il cinema filippino sta anche crescendo perché girano film notevoli che riscuotono anche notevole successo nei film festival internazionali. Io mi sono trovato anche molto bene a lavorare con gli attori, quindi anche attori, si dice A-list actors, quindi attori mainstream, perché sono tutti molto umili soprattutto e lavorano anche molto duro. C'è anche da dire che in Filippine è molto duro lavorare nel cinema perché gli orari non sono come qui in Italia. Ci sono i sindacati ma sono molto deboli e quindi si fanno turni che vanno dalle 6 di mattina fino alle 2 di notte del giorno successivo. È molto duro sia per la troupe che per gli attori, è molto duro lavorare là. Questa fiction andrà in onda verso febbraio. Verso febbraio è in prima serata su ABS-CBN che praticamente è la maggiore emittente filippina perché nel cast ci sono i giovani attori più promettenti delle Filippine. Ma non solo perché verrà distribuita anche in canali tematici e satellitari, in video on demand in diversi paesi dell'Asia, negli Stati Uniti e anche in Europa. Penso che si potrà vedere anche in un canale che adesso non so, in digitale terrestre, in Italia. Allora un saluto al Cinema Emilia Romagna con la speranza di tornare a girare qui presto. Allora un saluto al Cinema Emilia Romagna con la speranza di tornare a girare qui presto. Allora un saluto al Cinema Emilia Romagna con la speranza di tornare a girare qui presto.